Questa riforma che cosa si cerca di fare? Si cerca di stravolgere definitivamente questo rapporto fra rappresentanza e governabilità. La nostra Costituzione e qualsiasi democrazia moderna, ribadiamo, è fondata sul principio di rappresentanza. Una Costituzione che non garantisca rappresentanza e non garantisca sovranità ai propri cittadini non sarebbe una Costituzione democratica. Quindi non ci possono essere tante diverse idee di democrazie. Ogni concezione di democrazia comunque deve avere questo massimo comune denominatore dato dal fatto che in una democrazia i cittadini decidono.